Si chiama Genova San Giorgio, il nuovo viadotto autostradale progettato dall'architetto Renzo Piano che ha sostituito il Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018. Una tragedia costata la vita 43 persone, tra cui Toscani Stella Boccia, 24 anni di vicio maggio, nell'Aretino, il fidanzato 27enne Carlos Jesus Truiglio, residente a Capolona, e Alberto Fanfani, medico anestesista di 32 anni, che prestava servizio nelle varie unità operative dell'ospedale di Pisa. Il Ponte Crollato era una delle principali vie del traffico di Genova, era stato costruito negli anni 60 dall'ingegner Riccardo Morandi. Dopo la tragedia, nel febbraio 2019 era cominciata la demolizione dei resti dell'infrastruttura portata a termine per passaggi successivi smontando le varie parti che formavano il viadotto. Il 1 ottobre era stato posato il primo tratto sopra due piloni posizionati nelle settimane precedenti e a fine aprile 2020 era stata completata la struttura d'acciaio. Infine, lo scorso 8 luglio era stato posato il primo strato di asfalto e dieci giorni dopo erano iniziate le prove di collaudo. Il nuovo ponte appena inaugurato è lungo 1067 metri a 19 campate che si trovano a 40 metri di altezza sorrette da 18 piloni. È costato 202 milioni di euro utilizzando 67.000 metri cubi di calcestruzzo e 24.000 tonnellate di acciaio.